Eccomi qua ragazzi sono tornato, buongiorno a tutti e buonasera a tutti gli australiani, ho visto moltissimi australiani, come state? Ho visto molte facce amiche, molte facce amiche, questa lezione è per studenti di livello intermedio che come sapete su Italy Made Easy, livello intermedio significa che io parlo italiano normalissimo con tutti i tempi verbali, tutto il vocabolario che voglio usare, le espressioni, tutto normale eccetto la velocità, perché parlo più piano del normale, questa è l'unica differenza fra il mio livello intermedio e il mio livello avanzato, è la velocità, ok? No, Adrian, buon lavoro, buon lavoro Adriano! By the way, possiamo fare… dove sta, dove sta… ecco così potete vedere la chat mentre io parlo con voi, ma questo è un esercizio di comprensione oggi, quindi io vi racconterò una storia breve e dopo vi farò tre domande, quindi fate attenzione, se avete bisogno scrivete, prendete appunti perché io dopo vi farò tre domande di comprensione e voi dovrete scrivere la vostra risposta. Questo esercizio è un po' difficile, oggi le domande sono difficili, va bene? Susan, sei una principiante, non importa, questo video domani o dopo domani avrà i sottotitoli in italiano, quindi tornate domani e potete rivedere il video e rifare l'attività, ok? Siete pronti? Allora cominciamo, tolgo la chat così vi concentrate su di me, tolgo anche questo così solo me, ok? Allora vi racconto della prima volta che io sono stato a Napoli, va bene? Allora, io sono di un paese che non è molto lontano da Napoli, soltanto due ore di macchina, più o meno, anche un'ora e mezza con il treno, quindi casa mia è molto vicina a Napoli, ma quando io crescevo c'era una reputazione molto brutta di Napoli, quindi io non sono mai andato a Napoli per tutta la vita praticamente, poi un giorno quando avevo 23 anni il mio amico portoghese, Joel, che lavorava sulle navi da crociera, lavorava con la Princess o PO, non mi ricordo, la sua nave arrivava in Italia e arrivava a Napoli e allora io a 23 anni sono andato per la prima volta a Napoli. Sono arrivato e ho trovato una città bellissima, è veramente una città fantastica, la passeggiata sul mare, il lungomare, il castello, la piazza, è una città incredibilmente bella, con una personalità fortissima ma purtroppo con una brutta reputazione. Comunque a me è piaciuta moltissimo Napoli, anche se, cioè, è successa una cosa particolare allora io e il mio amico e la mia amica Monica siamo andati a prendere un caffè e abbiamo ordinato tre caffè, due normali e un decaffeinato per me, perché non volevo il caffè forte. Quando abbiamo pagato ho visto sulla ricevuta che il caffè normale costava due euro e cinquanta, che è molto, ma il decaffeinato costava cinque euro e allora sono andato a chiedere ma perché il decaffeinato costa il doppio? E mi hanno detto è così. Allora questa è la mia storia di Napoli, va bene? Allora, adesso vi faccio vedere le domande che vorrei chiedervi. La prima domanda è quando sono andato a Napoli per la prima volta. Quando sono andato a Napoli per la prima volta. Scrivete la vostra risposta. Non è facile, sicuramente avete capito, ma il problema è scrivere la risposta in italiano corretto. Alle ventitré anni, ventitré, quando hai trentuno, quando avevi ventitré anni, quando avevi trentatré anni, quando tu hai ventitré anni. Allora, benissimo. La risposta giusta è quando avevo o avevi ventitré anni. Quando avevo ventitré anni? Usiamo l'imperfetto perché è una descrizione di Manu nel passato, quindi quando avevi ventitré anni. Perfetto, benissimo. La seconda domanda, se io riesco a… dove sta? Perché non ero mai stato a Napoli? Questa è ancora più difficile. Perché non ero mai stato a Napoli prima? Questo verbo, perché non ero mai stato? Questo è un verbo che si chiama trapassato. È il verbo trapassato. Un attimo, lo scrivo qui. Allora, il tempo verbale è il trapassato, che è questo. È il trapassato. Perché non ero mai stato a Napoli? Per la brutta reputazione di Napoli. Perfetto, sì. È difficile leggere i nomi, ok? Non leggo i nomi. Ah, se posso descrivere la mia esperienza in napoletano? No, non conosco il napoletano, non capisco, non parlo nel napolesano, mi dispiace. Perché quando eri bambino la città aveva una brutta reputazione. Perfetto. Allora, aspetta. Sì. Per la reputazione brutta di Napoli. Perfetto, bravissimi ragazzi, complimenti. Allora, la terza domanda. Che cosa è successo con il caffè? Che cosa è successo con il caffè? Cos'è questa storia del caffè? Avete capito la storia? Allora, vediamo un po' le vostre risposte. Non arriva nessuna risposta. Perché la città aveva una brutta reputazione. Ok, il sassi dice che hai dovuto pagare troppo. Esatto, che hai dovuto pagare troppo. Costava più che il caffè normale. Sì, il caffè decaffeinato. Costava più del caffè normale. Il decaffeinato, sì, decaffeinato. Costava il doppio? Perfetto, sì. Il doppio del caffè normale. Costava il doppio del caffè normale. Carlos, sì. Il decaffeinato costava il doppio del caffè normale. Il caffè comune di Napoli era molto più conveniente dell'altro ordinato, sì. Il caffè era troppo caro. Perfetto, bravissimi. Complimenti, complimenti. Bravi, bravi, bravi. Allora, perfetto, ragazzi. Che cosa significa decaffeinato? Decaffeinato è il caffè senza la caffeina. Il caffè normale ha la caffeina. Il caffè decaffeinato non ha la caffeina. Ok? Ragazzi, è sempre bello parlare con voi. Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Ci vediamo domani per un'altra lezione per studenti principianti. Va bene? Un bacione a tutti e andate a italymadeeasy.com barra live per vedere il calendario di queste lezioni che non ho ancora aggiornato. Ok, scusate. Ok, alla prossima, ciao ciao!